Buongiorno! Epp! Checkmate! Epp! 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 S Instrumental Ora? No Come lo shootai! P bondige Circa Epp! Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tu giochi sempre sulla mia palla. Io ho la prima opzione, ok? Quella di venire di qua e ti calcio. Io quindi ho la giocata. La giocata larga per un cross suo e mezzo dove tu puoi uscire o aspettare il suo tiro. Eppure ho la giocata dove io posso fare questo. Mi allargo di qua e arrivo al tiro. Ok? A meno che però, Jacopo, non si inserisca dentro. Tu sei il pulsante sulla mia che ho un certo passo e poi hai riuscito in attacco, ok? Se diventa un'azione vera, tu dopo scegli quello che ti ritieni più fortuna fare. E' un'azione vera, è un'azione vera. E' un'azione vera, è un'azione vera. E' un'azione vera, è un'azione vera. Vamo! 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 Grazie a tutti.